Le cause del cancro del pancreas sono molteplici. Ci sono dei fattori che ereditiamo, che non possiamo cambiare il nostro patrimonio genetico e su questo purtroppo non possiamo fare nulla. E poi ci sono dei fattori ambientali e lo stile di vita e su questo invece è possibile fare molto perché oggi sappiamo che il fumo di sigaretta è sicuramente un fattore di rischio per sviluppare il cancro del pancreas oltre che il cancro del polmone, della vescica. Quindi il fumo di sigaretta va bandito, va abolito perché sicuramente avremo la vita più lunga se non fumeremo. Dall'altro lato lo stile di vita e le abitudini alimentari sono pure importanti. Un altro fattore ormai chiaro di cancro del pancreas è il sovrappeso, l'obesità, per cui la dieta sana e lo stile di vita col movimento aiutano senz'altro a prevenire il cancro del pancreas. Abbiamo poi una nicchia di pazienti che sviluppano il cancro del pancreas nell'ambito di famiglie ammalate ai tumori al pancreas. Uno su 10 tumori al pancreas sono inseriti in cancri familiari. Da questo punto di vista la prevenzione può aggiungere qualche accortezza in più, qualche consulto genetico per capire se si è davvero in una famiglia a rischio di sviluppare il cancro del pancreas e se siamo in queste famiglie è possibile avere l'inserimento in un registro nazionale dei tumori familiari che consiglia degli esami per cercare di individuare delle lesioni preneoplastiche.